Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, mostra una pistola e spaventa i passanti, poi pubblica i video sui social network. Un ventenne è stato denunciato all'episodio, è accaduto a Subbiano. Camminava nel centro di Subbiano esibendo un'arma, una pistola che nella stessa sera aveva mostrato ai passanti con fare minaccioso, ma non solo, aveva anche girato un video, presumibilmente nei pressi della caserma dei carabinieri, per poi condividerlo sui social. Ma i militari della stazione di Subbiano lo hanno intercettato e denunciato per il reato di portodarmi o oggetti atti ad offendere. A finire nei guai un ventenne residente nel comune vicino di Capolona, ma che da tempo frequenterebbe l'area verde di Subbiano ai locali della cittadina. La presenza della pistola sarebbe stato solo l'ultimo di una serie di gesti considerati dai residenti sconsiderati, tanto che molte sarebbero state le segnalazioni alle forze dell'ordine. Il giovane è stato così trovato dai carabinieri in un bar della zona. Con sé aveva una pistola scacciacani priva del tappo rosso di tipo semi-automatico e 30 cartucce a salve calibro 8. Arme e munizioni sono state sequestrate. I militari hanno poi approfondito le indagini appurando che il ragazzo aveva prodotto diversi filmati sulle sue sconsiderate gesta già pubblicate sui vari social network. Il ventenne è stato colpito così anche dalla misura del divieto di ritorno nel comune di Subbiano per tre anni. E' ancora sotto sequestro il ponte di Annibale al confine tra i comuni di Reggello e Castelfranco Pian di Scoda, qui è accaduto il tredicenne sabato scorso finendo nel Resco comunque in secca. Il ragazzo è fuori pericolo di vita ma si trova ancora in rianimazione all'ospedale Meyer di Firenze. Il ponte di Annibale si trova in un sentiero tracciato dal CAI e la strada per raggiungerlo, poco distante da una pieve romanica, conduce fino alla Canova. La staccionata sarebbe stata sistemata sul ponte molti anni fa. Questo è dunque lo scenario sul quale stanno indagando i carabinieri di San Giovanni Valdarno proprio per accertare se vi siano responsabilità. Ancora truffe agli anziani, un episodio nell'aretino proprio poche ore fa e allora arriva anche l'appello a prestare davvero tanta attenzione da parte delle forze dell'ordine. Ancora truffe agli anziani, i malviventi hanno tentato un altro colpo nell'aretino proprio nelle scorse ore con la tecnica ormai molto diffusa del finto incidente. Una signora è stata contattata telefonicamente dai malviventi che le avrebbero fatto credere che il figlio aveva investito una persona con la sua auto. Durante la telefonata hanno sciorinato una serie di dati e informazioni sul figlio e sulla famiglia per essere credibili. Informazioni ricordano le forze dell'ordine che i malviventi riescono a carpire facilmente dai profili social dei familiari delle loro vittime. L'anziana, presa dal panico, ha detto al telefono che avrebbe raggiunto la nuora al piano di sotto della palazzina dove risiede e così, probabilmente in maniera inconsapevole, ha sventato la truffa. La nuora, una volta ascoltato il racconto, ha allertato i carabinieri che hanno confermato come ormai questi episodi siano all'ordine del giorno. Pare che in un caso, con particolare cattiveria e spregiudicatezza da parte dei malviventi, abbiano fatto sentire ad un'altra vittima di truffa la voce di un bimbo che piangeva, ovviamente registrata precedentemente, per sparciarla per il pianto del nipotino. Insomma, non si fermano davvero davanti a nulla e spesso, purtroppo, le truffe vanno a segno. Dopo aver convinto la vittima che l'incidente c'è stato, chiedono soldi e gioielli per evitare i rogni o addirittura l'arresto del familiare. Le forze dell'ordine si raccomandano, chiedono la massima attenzione e la segnalazione immediata per riuscire ad arginare gli episodi. Incidente stradale. Questa mattina ad Arezzo, in zona Saione, in via Leon Battista Alberti, un'auto ha investito una ragazza che è stata subito soccorsa. Non sarebbe in pericolo di vita sul posto. La misericordia di Arezzo, un'automedica e gli agenti della Polizia Municipale. della giovane di 22 anni è stata trasportata al pronto soccorso di Arezzo in codice giallo. Arriva il caldo e con esso anche il pericolo incendi. Noi siamo andati all'interno della caserma dei vigili del fuoco di Arezzo. Svolgendo questo lavoro bisogna essere pronti. Noi cerchiamo di essere preparati, quindi di tenere a posto tutti i mezzi che potrebbero essere necessari per fronteggiare un incendio boschivo e anche di avvisare, per esempio, nei vari turni il personale eventualmente poi disponibile a rientrare in caso di necessità. Con l'arrivo del caldo dopo una lunga stagione delle piogge, torna il pericolo incendi e anche ad Arezzo è scattata la mobilitazione contro i roghi. In Toscana l'anticendio boschivo è coordinato dalla regione dal 2014 e poi attiva la sala operativa unificata H24. Noi abbiamo diverse professionalità che fanno i turni sia al COP, al centro operativo provinciale, che alla SOP, alla sala operativa unificata che si trova a Firenze in Regione. In pratica queste due sale operative coordinano i soccorsi, coordinano tutti i varianti che vengono a partecipare in caso di un incendio boschivo a livello provinciale e regionale. Oltre questo noi abbiamo il nostro dispositivo di soccorso ordinario che all'occorrenza, come vedete, il nostro regolamento di servizio può essere integrato anche con personale libero dal servizio. Nei primi mesi del 2022, anche a causa di una straordinaria siccità, nell'intera regione erano scoppiati 591 incendi che avevano mandato in fumo 2247 ettari di bosco, più del doppio rispetto alla media degli ultimi sette anni, la provincia di Arezzo comunque la meno colpita. Però Arezzo è un livello che a livello interventistico fa molti interventi ogni anno, supera 6 mili interventi. Per far fronte al rischio incendi boschivi in tutta la regione, dal primo luglio è scattato il divieto assoluto di abbruciamento dei residui vegetali, agricoli e forestali, che resterà in vigore sino al prossimo 31 agosto. La direttiva va a definire degli atti di prevenzione degli incendi, sia evitando di appiccare fiamme libere, sia invitando anche la popolazione con le ordinanze che vengono fatte da tutti i sindaci a mantenere i puliti terreni che sono suscettibili di incendiarsi. per innesco. Per segnalare invece eventuali focolai, i cittadini potranno chiamare il numero unico di emergenza 112. Dopodiché mettersi sicuramente in zona sicura perché molte volte il danno che l'incendio può provocare alle persone non è tanto quello del calore quanto quello dei fumi che vengono a respirare le persone appunto. Attenzione elicottero scancia, attenzione elicottero scancia. Ancora attenzioni alla FIMER dove come sappiamo da lunedì scorso è ripartita la produzione però con tante incertezze, una su tutte, il pagamento degli stipendi ai 400 lavoratori che affermano i sindacati sono ancora in attesa appunto del proprio stipendio. proprio i sindacati in queste ore hanno un incontro all'interno dell'azienda che potrebbe chiarire tanti dubbi, uno su tutti appunto proprio il pagamento degli stipendi. i sindacati hanno chiesto chiarimenti proprio al CDA appunto di FIMER. Siamo alla politica, il Partito Liberale Italiano ha rifondato la sezione nell'Aretino e allora sentiamo ai nostri microfoni il nuovo segretario provinciale e anche quello regionale ovvero l'Aretino, Angelo Rossi. Ma sono molto felice perché diciamo come segretario regionale ho messo tutte le bandierine nel PLI, più o meno in quasi tutta la Toscana, mancava Arezzo, sono il segretario regionale e mi mancava proprio casa mia, quindi devo ringraziare questi ragazzi tra virgolette che hanno deciso di rifondare ad Arezzo qualcosa che era assente ormai dagli anni 90. Il Partito Liberale Italiano ha annunciato recentemente la formazione della sua sezione provinciale ad Arezzo che mancava nel panorama politico aretino dal 1993. Il nuovo segretario provinciale è il medico cardiologo Roberto Perticucci, l'imprenditore Emiliano Taranghelli invece sarà il presidente provinciale. L'era post-berlusconiana ovviamente è un primo punto di partenza, questo termine liberale già ci porta ovviamente su determinati temi sui quali immagino vi vorrete impegnare. Certamente sì, Berlusconi ha promesso una rivoluzione liberale ma poi non l'ha portata a termine quindi noi speriamo di poter in qualche modo portare avanti questo progetto, un progetto molto ambizioso e ci basterebbe anche una piccola porzione del pensiero liberale realizzarla realmente, però ci proveremo. Ecco perché in Italia si fa fatica ad affermare il pensiero liberale secondo lei? Perché è un pensiero un po' di elite diciamo, minoritario per vocazione e poi in Italia c'è sempre stata una cultura di tipo massimalista, i comunisti, i democristiani, anche il fascismo, cioè quindi sono sempre stati difficili gli spazi per la cultura laica e liberale. Come guardate alle sfide immagino che questa ricostituzione a livello provinciale sia anche in questo senso elettorali che ormai insomma sono alle porte. Dunque noi per usare un termine diciamo d'attualità siamo fluidi, quindi cercheremo di parlare con tutti gli altri partiti localmente, ovviamente quelli che hanno con noi un qualche tipo di affinità culturale, quindi non penso che parleremo con i Cinque Stelle perché abbiamo poco da dirci, probabilmente neanche con il PD, però con gli altri più o meno penso che si possa mettere in piedi un colloquio e vedere un po' come va a finire. Le idee verranno raccolte in un convegno intitolato il futuro dell'area liberale nell'era post-berlusconiana che si terrà ad Arezzo in autunno, coordinato dal giornalista ed ex parlamentare Paolo Guzzanti. C'è chi già pensa addirittura alle sfide regionali, avrà visto insomma partiti di maggioranza come Fratelli d'Italia, lancialo già le sfide per il 2025. Voi vi state preparando? Noi attualmente siamo alla finestra a guardare un po' l'evolversi della situazione e di questi schieramenti, è ovvio che andremo sicuramente a intercettare quelle persone che hanno qualcosa in comune con noi. Il caso del concorso pubblico per un posto da infermiere le cui prove scritta e pratica si sono tenute ad Arezzo lo scorso 21 giugno a Proda in Consiglio regionale. i consiglieri del PD Enrico Sostegni, presidente della Commissione Sanità e Marco Nicolai, responsabile del settore per la segreteria regionale del partito, hanno presentato un'interrogazione firmata anche dagli altri consiglieri del PD. Per chiedere al presidente Gianni se non ritenga opportuno attivarsi nei confronti di Estar ai fini proprio di conoscere quali siano le cause che hanno prodotto le criticità appunto concernenti le modalità di svolgimento del concorso pubblico sollevate proprio anche da OPI, lo ricorderete. Nuovi arredi per le camere, per i materassi, buoni spesa per gli alimenti, casalinghi, biancheria e vestiario, questi materiali acquistati grazie ad un contributo di Banco BPM destinati alle case di accoglienza della Caritas di Ocesana di Arezzo che si impegnano a servizio delle persone più fragili e svantaggiate. Il contributo che abbiamo ricevuto, dice il Vescovo Andrea Migliavacca, ha permesso di sostenere alcune azioni di un progetto più ampio rivolto proprio alle persone che vivono ai margini, un fenomeno non relegato ai grandi centri metropolitani ma in crescita anche nel nostro territorio e che spesso nasconde storie di grande sofferenza. Adesso ci spostiamo invece a Cavriglia, ieri abbiamo già realizzato un primo servizio proprio sul ricordo delle vittime dell'Ecidio ma le manifestazioni ufficiali poi si sono svolte nel tardo pomeriggio. Il servizio. Il modo per onorare queste persone, questi innocenti, queste vittime del male è di fare la giustizia, mi ha colpito nella preghiera con cui abbiamo iniziato, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore ma restiamo nello splendore della verità. Giustizia e verità, i due temi richiamati nell'omelia di Monsignor Manetti Vescovo di Fiesole durante la Santa Messa e il ricordo delle vittime dell'Ecidio di Cavriglia avvenuto il 4 luglio del 1944. Una cerimonia che si è tenuta a Meleto Valdarno organizzata nel pomeriggio alle 17 anziché al mattino come di consueto perché proprio la mattina del 4 luglio doveva tenersi la prima udienza per il processo civile in merito ai risarcimenti dovuti alle vittime degli ecidi nazifascisti. Sarà l'Italia a pagare tutti i risarcimenti agli eredi delle vittime al posto della Germania in forza di un accordo tra i due paesi. Il fondo, istituito dal governo Draghi e confermato pochi giorni fa con un decreto del Ministero dell'Economia, ammonta circa 61 milioni di euro fino al 2026. I rastrellamenti nel comune di Cavriglia da parte dei nazifascisti avvennero a Castelnuovo dei Sabbioni, Meleto Valdarno, San Martino, Massa Sabbioni e Lematole, 192 le persone uccise. Noi cerchiamo di essere vicini naturalmente non solo alla memoria di coloro che persero la vita in quei terribili giorni del 1944 ma anche ai loro familiari. Non a caso alcuni mesi fa noi abbiamo intentato una causa contro la Germania per il risarcimento del risarcimento che è predisposto da un dispositivo legislativo di Draghi che mira a risarcire sia gli enti locali che le famiglie delle vittime. Naturalmente non è l'obiettivo quello di avere i soldi ma è soltanto quello di avere rispetto e quindi ci sembrava un tentativo doveroso per coloro che hanno sofferto questi drammatici momenti che ancora sono i figli, i nipoti e i parenti di quelle vittime che è un massacro enorme che accadde appunto a Cavriglia e che purtroppo si configura come la quarta strage in Italia in termini numerici dopo Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema e le forze abbiattine. L'udienza del processo civile è stata rimandata a data da destinarsi. È il dottor Antonio Castelli il nuovo presidente del comitato del direttivo provinciale di Arezzo della Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. È un onore per me, afferma Castelli, assumere questo prestigioso incarico. La Lilt ha fatto la storia dell'associazionismo nazionale e oggi sono stato chiamato a rappresentarla su Arezzo e provincia o accanto a me una squadra di professionisti veri che si sono già messi al lavoro per presentare a settembre le prime iniziative sul territorio. Il dottor Stefano Tenti è il presidente del comitato scientifico, il dottor Pasquale Macri è invece presidente del comitato etico, il dottor Pierluigi Rossi è il presidente del comitato d'onore e la dottoressa Susanna Cutini è la responsabile del comitato femminile. Tutto pronto per la festa provinciale delle Acli, quattro giornate con relatori di spessore nazionale su tematiche di attualità dalla famiglia al lavoro alla pace. Ad Arezzo sabato arriveranno Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio, Rosi Bindi, ex ministro della Sanità e di Miliano Manfredonia, protagonisti del dialogo dei presidenti. Sostenibilità lavorativa, giovani, sport e pace. La festa provinciale delle Acli di Arezzo proporrà un focus su tante tematiche di stretta attualità alla presenza di relatori di spessore nazionale. La diciassettesima edizione dell'evento è in programma da giovedì 6 a domenica 9 in piazza Donald C. del Lazzeri a Ponticino. Abbiamo questo connubio tra la festa del nostro circolo di Ponticino e la presidenza provinciale, appunto più volte è stata sia festa provinciale che regionale. Per noi, ripeto, è un onore, un vanto e anche una soddisfazione poter ospitare sempre la festa sia provinciale che regionale, anche perché è un momento di aggregazione, di crescita sociale, crescita culturale e anche per il nostro territorio, insomma, è un momento importante e fondamentale. La festa provinciale delle Acli sarà caratterizzata da un intenso programma di iniziative di ingresso gratuito dove intrattenimento e socializzazione si uniranno ad approfondimento e riflessione. Io in particolare mi soffermerei sul primo incontro di giovedì 6 luglio che riguarda la conciliazione dei tempi vita lavoro, sulla sostenibilità lavorativa, in cui l'allevatura delle persone chiamate a parlare ci aiuterà a analizzare meglio questo aspetto che a noi aclisti, quindi in quanto lavoratori cristiani ci sta particolarmente a cuore, con l'augurio, l'auspicio che non emerga una contrapposizione tra la scelta di lavorare e di fare famiglia, quanto più una necessità di armonizzazione. La pace sarà infine il tema di venerdì 7 luglio, quando alle 19 si terrà il dibattito dal titolo viviamo una terza guerra mondiale combattuta a pezzi, ritrovare la speranza e la fraternità per riconquistare la pace. Noi ad Arezzo con questa giornata particolare sulla pace teniamo aperta, socchiusa, la porta riguardante appunto la speranza della pace, solo con la pace si può avere la democrazia. 216 milioni di euro è quanto spenderanno i toscani durante i saldi estivi 2023 secondo le previsioni di Conf Commercio Toscana. Saldi che appunto prenderanno il via su tutto il territorio toscano il 6 di luglio, domani giovedì che per Arezzo coincide anche con la notte bianca, la notte appunto che dà il via ai saldi. domani alle 19 taglio del nastro davanti ai portici di via Roma, oltre 300 le attività commerciali che saranno aperte fino a mezzanotte proponendo prezzi ribassati e tante occasioni di acquisto in una cornice di eventi, musica e divertimento. E a proposito di musica ha preso il via proprio ieri il Mango Music Fest, un avvio bagnato. Io dentro l'acqua non voglio entrarci, sassetti piccoli a piccoli passi, lo sai l'inizio erano tutti massi. Partanza bagnata ma comunque fortunata per il Festival dell'Estate a Retina, il Mango Music Fest che compierà nel 2024 20 anni. A passarsi il testimone sul grande palco del Prato, Riverso Villalba Claudio e la banda di punta della serata Love Gang 126, un collettivo romano con il loro primo progetto discografico Cristi e Diavoli uscito ad aprile, un racconto senza filtri di cosa significa vivere assieme. Prima di loro sul palco Claudio, il cantautore romano Claudio Rossetti, reduce della pubblicazione del suo ultimo disco, Guerra Fredda, un'intensa e profonda raccolta di pensieri e riflessioni, un diario intimo dal sapore agrodolce scritto a cuore aperto. Quasi 30 gli artisti che si alterneranno sul palco quest'anno con un giorno di musiche in più. Il Mango Music Fest si svolgerà infatti a differenza degli anni precedenti sino a domenica, tra gli ospiti più attesi Salmo, sabato, 8 luglio e Alan Sorrenti e Planet Funk che chiuderanno invece domenica 9. Tre giornate di spettacolo e rievocazioni storiche e laboratorie per tutte le età con la nona edizione della Rezzo Celtic Festival, l'evento organizzato dall'Associazione Cerchio delle Antiche Vie è in programma da venerdì 28 luglio al Parco Pertini di Viale Giotto e si svilupperà attraverso un ricco calendario di iniziative strutturato con l'ambizione di far vivere atmosfere, usanze e tradizioni dei popoli dell'antichità. In questa ottica una particolare attenzione sarà orientata verso l'aspetto rievocativo con la fedele ricostruzione dei villaggi appunto di Celti, Romani e Italici che animati da decine di compagnie storiche e figuranti provenienti da tutta la penisola saranno sede di numerose attività creative, manuali, ludiche e didattiche. Siamo allo sport, un salto da record per Nicolas Gavagna al Meeting Città di Pistoia riservato alle rappresentative regionali della categoria allievi. L'atleta dell'Alga Atletica Arezzo ha indossato la maglia della Toscana e nel salto in lungo ha registrato l'ottima prestazione di 7.45 metri che appunto gli è valsa la medaglia d'oro. Questo risultato configura un ulteriore passo in avanti rispetto ai 7,40 metri che Gavagna aveva conquistato pochi giorni prima poi conquistando anche la medaglia d'argento ai campionati italiani allievi aveva raggiunto appunto la misura minima per partecipare ai campionati europei under 20 siglando il nuovo record regionale. Ed infine doppia ufficialità in casa Academy, Poponcini e Vannini vestiranno la casacca Amaranto nella prossima stagione sportiva 23-24. Poponcini è un difensore centrale classe 1997 che proviene da una lunga militanza nel Tegoleto e prima aveva vestito la maglia del Lucignano in promozione. Vannini è invece un centrocampista classe 2001 che può vantare esperienze in Serie D con la maglia del San Giovannese. di aver giocato in precedenza con Alberoro e Antella arriva al villaggio Amaranto in prestito dalla San Giovannese. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e arrivederci.